È il mondo del lavoro ad essere sott'attacco in questo delicato momento. Il segretario della FIM CISL, Alessandro Beccastrini, ha ricevuto una lettera minatoria accompagnata da un proiettile. La lettera è stata recapitata nella cassetta della posta nella sede CISL Firenze Prato lunedì pomeriggio. Le forze dell'ordine sono intervenute per prelevare la busta e adesso sono in corso gli accertamenti della Digos. È un gesto molto grave, purtroppo non è il primo all'ennesimo di una serie di intimidazioni che questa struttura sindacale riceve sul territorio fiorentino. Non è un momento facile sicuramente, ma quella busta ha ancora una valenza di gravità perché al suo interno c'è un proiettile, un proiettile indicato, indirizzato al nostro operatore che con responsabilità svolge quotidianamente il proprio lavoro al fianco del lavoratore e delle tante vertenze presenti sul territorio fiorentino. Dopo l'assalto alla sede della CGL di Roma, avvenuto sabato scorso, è stata indetta una manifestazione nella capitale il prossimo 16 ottobre. Molti partecipanti anche dalla Toscana nelle scorse ore è avvenuto un altro attacco a Piombino presso la sede della CGL. È stata bloccata la serratura della porta ed è stato affisso un cartello con insulti. Il 16 saremo in piazza per dire no a questo periodo che stiamo vivendo perché è un'escalation preoccupante, quello è successo alla CGL. Io domenica mattina non ho esitato un attimo a recarmi in Borgo dei Reci a portare solidarietà della Cisla Fiorentina e Pratese alla CGL. È un momento difficile, serve serietà, serve responsabilità di tutte quelle istituzioni democratiche di questo territorio, dalle organizzazioni sindacali ai partiti. Dobbiamo con forza difendere i principi della nostra Costituzione, della nostra democrazia.